Avrebbe compiuto 89 anni il 26 novembre, se ne è andata ieri, stiamo parlando della marosticense Giuliana Minuzzo, prima donna italiana a vincere una medaglia delle Olimpiadi Invernali, il bronzo in Norvegia in discesa femminile a 21 anni. La si ricorda anche per il suo giuramento olimpico, quale prima donna nel 56 a Cortina. Il suo nome compare anche nella Hall of Fame della Federazione Italiana Sport Invernali. Da anni Giuliana Minuzzo non abitava più a Ballonara di Marostica, ma si era trasferita ad Aosta.